Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza. Quindi 25 miliardi di disponibilità finanziarie da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà che stiamo affrontando per questa emergenza che, come ho sempre dichiarato, è sia sanitaria sia economica e ha chiaramente un importante impatto sociale. Sono peraltro lieto del clima che si sta definendo a livello europeo. Ci sono state grandi aperture sulle nostre richieste. In particolare c'è la consapevolezza, abbiamo deliberato di dover condividere informazioni per essere ancora più efficaci nel contrasto al contagio e alla diffusione del virus. Abbiamo anche concordato sulla necessità di lavorare per creare un coordinamento per fornire e rendere i nostri rispettivi sistemi nazionali sanitari ancora più efficienti nelle risposte. Lavoreremo anche in coordinamento, manderemo quindi dei nostri scienziati e esperti per creare una task force europea per poter anche promuovere la ricerca per combattere più efficacemente questo virus ancora ignoto. E inoltre grande apertura per quanto riguarda le conseguenze per far fronte alle conseguenze sociali ed economiche abbiamo avuto grandi riconoscimenti e apertura sul fatto che è necessario una maggiore liquidità, è necessario adottare misure e ricorrere a tutti gli strumenti che l'ordiamento europeo ha a disposizione per far fronte finanziari, economici, sociali, per far fronte a questa emergenza.